Ultimamente in Italia è stato coniato un nuovo termine per indicare una semplice parola, puttana. Ecco, dicono escort. Qui come si dice? Com'è? Con la zeta si dice, non è con la b di Bologna. Insomma, ultimamente tutte queste belle signorine girano, si fanno viaggi intercontinentali a spese noce, si mettono di bianco, di nero, di rosso. E a noi ci piace il look, vero? Invece in Giappone sono state sempre elegantissime e i giapponesi sono sempre rimasti legati alla tradizione e le chiamano cash. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.